signori e signori benvenuti qua in questa grande finale di atleta league io come sempre sono Revil e accanto a me il non laido benvenuto buonasera a tutti è la terza volta si ma sono un po emozionato però cerco di rimanere comunque calmo sempre chill attenzione alle attenzione intanto la corsia inferiore viene beccato Reigns first blood dei taschi di brolla bellissima azione della corsia inferiore degli axolotti potrebbero tanto si portino avanti c'è nel doppio town la pioggia Reigns subito si riposiziona ancora si rigira il piccolo burger flipper con lo so appoggi di proiettili arrivano team con il teleport Brolla cosa vada a riunire non sarà abbastanza cade in questo momento Diana cade anche Lucian Burger continua con il danno il chakam dalla distanza il grab di Reigns non va connette da Volkid da parte di Brolla se ne girano anche su Reigns cade anche lui triple kill da parte di Brolla e questo è un disastro per la brigata le axolotti sono in estremo vantaggio dribble cade anche lui quadra kill da parte di Brolla la di cade ha preso un enorme vantaggio tanti gold tanti gold in saccocci e qua può fare tranquillamente a 1v9 siamo qui per il secondo game di questa best of five vi ricordo brigata contro axolotti academy al momento axolotti 1-0 tenelli pronti difendere il proprio alicare il flash continua con il danno la leccata di shredder è diventato praticamente un likitung first blood nei taschi di taion cade anche shredder cade tenelli rimangono soltanto Brolla e taion ai cucini che sono qua intanto tenelli viene beccato la shockwave dall'alto arrivano il dps da parte di taion che ricordiamo il leggendario la doppia shockwave il follow up della quandana morte di tenelli cade eagle Brolla purtroppo non c'è più thetuman double kill nelle tasche di pinsu dimon il fin di vita shutdown nelle tasche di dimon cade anche victor shredder deve scappare il fin di vita la coo di burger il decimare va a concludere la kill sull'avversario 5 vanno giù ace aspettano notyuman ok notyuman aveva 3 secondi per suonare allora ora siamo qua per il forzo game di questa sera abbiamo visto un 1 a 1 parte con la slinguazzata shredder taion dalla distanza continua con il danno arriverà anche i notyuman potrebbero flippare questo fight finalmente le mazzate siete a livello 1 700 hp sonic wave da parte di eagle la slinguazzata otterrà il blu buff victor poco in porta vabbè bellissimo tinelli flash quadro pro play sugli avversari regala il post plot al proprio team incredibile su riesce a trovare la solo kill sonic wave su tinelli arriva victor con la super valkyria ancora una volta valkyria per riposizionarsi tinelli pronto di fare il proprio di carry il flash di dimon deve andare su quattro il flash di tinelli che deve scappare i gol vola potremmo andare contro tiuma shot down dei taschi di victor ci hanno provato a scappare ma non sarà abbastanza riescono a vincere il fight gli axolotti ben ritrovati di nuovo in questo match point che potrebbe essere per gli axolot è arrivato anche horn a liga e della sua la shockwave di orinana va a trovare shredder continua col dps il livellatore missilistico tinelli va a trovare lo caprico ha fatto di brolla arriverà la nuva di fantozzi di victor che porta un po' di dps burger flipper si porta in avanti chiamatine della forgia di binsu va a trovare un doppio no cap piaccia di katia di taion conclude la kill sul monaco cieco e qui dimon in tranquillità può anche forzare questo drago hanno ottenuto una kill anzi due kill in questo team fight però potrebbe esserci quello che è il fight finale di questo torneo 3k hp continua col danno lo tengono ma non nascono per la brigata eagle continua arriva shadder con il grab livellatore missilistico è perfetto tinelli fin di vita il box il doppio no cap da parte di binsu arriverà il più doppio di flipper che trova tanti double kill da parte di taion e continua con il danno dribble kill da parte di taion quadra kill da parte di taion e con il ballone d'ashorn push da quella che è l'ultima wave dalla corso centrale concludendo con un 2 a 2 qui andiamo al quinto game signori e signori per la quinta e ultima volta ben ritrovati qua su atleta league io come sempre sono ravi e qui accanto a me l'onlido sta facendo pista da sola si da punti lastica bello shadder con il suo pulverize teono subito pronto a followare esploso in questo momento brolla arriverà anche binsu arriverà addirittura dell'innestimo teleport nella cosa centrale si porti avanti scendere la shockwave the party not human va a demolire gli avversari e con il fin di vita anche lui e qui cade il nexus vittoria per i brigata che conquistano questa finale grazie per averci seguito se ti è piaciuto quello che hai visto lascia un commento o un mi piace e iscriviti al nostro canale youtube non dimenticare di seguirci anche sui nostri social facebook, instagram e twitch i link li trovi nella descrizione qui sotto ciao